Ricevere un dono fa sempre piacere, ma anche farlo ci rende felici. E se donassimo la vita? Un donatore moltiplica la vita. Benvenuto Professor Famolari. Grazie, buonasera, grazie per l'invito. Allora, professore, quando avviene la donazione di organi e tessuti? La donazione di organi e tessuti è un momento che si verifica quando un soggetto purtroppo è andato incontro a morte, che può essere accidentale per un trauma, per un incidente o per una malattia che ha provocato un incidente a livello cerebrale e che le condizioni del paziente purtroppo sono irreversibili e quindi non consentono appunto di avere un'attività cerebrale che sia reversibile e che a quel punto, costatata secondo le norme di legge, lo stato di morte cerebrale, a quel punto possono essere prelevati e con il consenso ovviamente della famiglia, nel caso che il soggetto non avesse espresso precedentemente una sua volontà in senso positivo o in senso negativo, nel caso che avesse espresso un parere positivo, si consulta anche la famiglia per avere una conferma di questa sua volontà e si possono prelevare gli organi che possono essere di vario genere, come il cuore, il fegato, i reni, l'intestino, il pancreas o i tessuti come le corne o anche l'osso che può essere utilizzato anche per trapianti successivamente. Come posso esprimere io il consenso a donare i miei organi? Direi che è un passaggio estremamente semplice, molto banale come tutto quanto quello che riguarda, ma nello stesso tempo molto tracciabile, cioè la mia volontà deve essere trasparente, deve essere chiara, io devo sapere che tipo di volontà esprimo, devo esserne convinto e lo posso fare tramite una dichiarazione o tramite un tesserino o tramite una registrazione in un sistema informatico e su questo ci stiamo attrezzando e stiamo cercando di formare le persone che devono essere coinvolte in questo tipo di processo proprio per dare maggiore informazione, una maggiore capillarità e una maggiore sicurezza su questo tipo di processo che possa essere accolto in senso o positivo o negativo nel pieno rispetto della persona e della volontà del soggetto. Professore, ma è possibile esprimere in vita già a chi donare i nostri organi? Certo, questo è possibile, cioè è come se io esprimessi una mia volontà, come se facessi un testamento o un mio desiderio che vorrei che fosse rispettato e lo posso fare tramite l'espressione di questa mia volontà di poter essere considerato un donatore di organi e questa è una campagna informativa che stiamo mettendo su a livello di mass media, di pubblicità e a livello anche delle istituzioni nei vari posti dove vengono rilasciate le documentazioni in modo che il cittadino possa avere questo tipo di opportunità non è nessun obbligo, ha semplicemente un'opportunità di poter prendere in considerazione questo argomento e decidere se accettarlo oppure no. Invece è possibile scegliere la persona alla quale donare i nostri organi? Questo non è possibile perché è ovvio che altrimenti ci potrebbe essere in qualche modo un legame sbagliato fra l'eventuale familiare che decide di donarlo a quel soggetto o a quell'altro soggetto per motivi che sono più inconfessabili e quindi c'è la necessità di una massima anonimità da un lato e anche perché non è possibile identificare perché ci sono delle liste d'attese che comprendono centinaia di migliaia di persone e quindi non si può specificare l'identità dell'eventuale ricevente. La situazione invece delle donazioni e dei trapianti in Abruzzo e in Molise qual è? L'attività di donazione di trapianti in Abruzzo e in Molise è iniziata circa dieci anni fa ci sono stati dei momenti molto importanti con un numero di donazioni molto importanti e altri momenti anche collegati a momenti di disagio che tutti quanti potete immaginare quali siano stati negli ultimi anni che hanno portato ad un abbassamento del numero delle donazioni e quindi conseguentemente a una riduzione del numero dei trapianti. Il fatto appunto di rimarcare e di sottolineare l'importanza di questo atto di generosità, di questo atto di civiltà da parte di ciascuno di noi che potrebbe sempre nella propria vita trovarsi anche nella condizione di dover avere un trapianto e avere questo atto di generosità nei confronti delle centinaia di migliaia di persone che purtroppo si trovano in questa condizione direi che è estremamente importante. Come va l'attività nel centro trapianti di Reni? Guardi come le dicevo precedentemente è un'attività che noi abbiamo iniziato più di dieci anni fa e a tutt'oggi come trapianti di Reni siamo quasi al livello di 400 trapianti effettuati in questi 11 anni che rientrano come numero, siamo nella parte alta della media a livello italiano quindi siamo al di sopra abbondantemente del numero di trapianti che dovrebbero essere effettuati per giustificare la presenza di un centro trapianti e i risultati che noi abbiamo sono assolutamente paragonabili a quelli che ci sono negli altri centri trapianti a livello nazionale e a livello internazionale anche perché, ritorno a sottolineare, questo tipo di attività è assolutamente tracciabile, visibile identificabile in qualunque tipo di momento. Grazie professor Famolari. Grazie a lei dell'ospitalità. E arrivederci. Noi ci vediamo invece tra pochissimo, subito dopo la pausa pubblicitaria.